30 voti a favore, 175 contrari e 44 astenuti. Per alcuni è in arrivo una rivoluzione. Il voto favorevole espresso a larga maggioranza dal Parlamento europeo a Strasburgo potrebbe presto ridisegnare il sistema comune di esilo previsto sino ad oggi dal regolamento di Dublino. In altre parole, il mandato negoziale dell'Europarlamento di oggi se accettato dal Consiglio dell'Unione europea metterebbe fine all'attuale norma secondo cui è il primo Paese di arrivo a doversi assumere tutte le responsabilità nella gestione e nell'accoglienza dei richiedenti asilo principio che nel tempo ha sempre più penalizzato i Paesi maggiormente esposti sul Mediterraneo come l'Italia e la Grecia consentendo ad altre nazioni di non sentirsi coinvolte e come è accaduto nel blocco di diversi Paesi dell'Europa dell'Est di tirarsi indietro anche sugli accordi per la ridistribuzione. Secondo il testo redatto dalla Commissione per le Libertà Civili i richiedenti asilo verrebbero invece ridistribuiti immediatamente ed equamente secondo le capacità di accoglienza in tutti gli Stati membri secondo l'applicazione del principio di solidarietà e in caso di rifiuto rischierebbero di veder ridotto il loro accesso ai fondi europei. Per il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani il regolamento di Dublino allo stato attuale è un sistema inefficace e ingiusto e invita il Consiglio ad agire in tempi rapidi. E intanto sul tema dei confini dopo le recenti critiche avanzate dall'ONU l'Unione Europea ha ribadito che intende proseguire l'addestramento della Guardia Costiera Libica. Per la portavoce della Commissione, Catherine Ray, sono i trafficanti principali responsabili della situazione che definisce terribile e scandalosa per molti migranti in Libia.